Si è svolto a Roma, domenica 10 ottobre, il primo torneo di Padol Solidale. L'iniziativa è stata fortemente voluta e sostenuta dalla società Willow the Cloud in favore dei progetti di inclusione sociale di Sport Senza Frontiere. Molte le aziende partecipanti che hanno schierato i propri dipendenti per questa bellissima iniziativa di Sport Solidale. L'obiettivo è quello di sensibilizzare le aziende a partecipare attivamente con i propri dipendenti a unità solidarie come questa. Willow si occupa di cloud. Cloud è un discorso complesso. Praticamente bisogna prendere tutto il ferro che hai in azienda, tutti i server, tutte le cose che c'è dentro che ti fanno funzionare l'azienda, chiudi tutto, spegni tutto e metti tutto sul cloud. Sicuro, potente, veloce, completamente gestito, si risparmiano un sacco di soldi. Questo è il concetto di Willow, che è completamente proiettato al futuro. Sul campo 3, quello subito dopo il 2, net zero partner per la squadra verde di Cisco, composta da Alfredo Di Gennaro e Gian Matteo Manghi. Vinciamo, vinciamo, va detto, il mondo Cisco, interessante, ma qui siamo di altra parocchia. Io Samsung, io team, io team, siamo nel mondo del soft, dell'hard, copriamo un 400 euro, ma senza dubbio. Vinciate voi, Vinci. No, a noi sicuramente no. Si attenzione a te? Sicuro che è Eurobet. È Eurobet. Ciao, come è andato questo primo giro? Alla grande, abbiamo perso... Insomma, ma l'abbiamo perso, quindi. Ora ci rifaremo, ci rifaremo. Non perdiamo sistematicamente, noi. Chiamo alla simpatia e alla bellezza. Sì, è una giornata. Sono gli spioli di Londra, secondo Carlo Morfetta, vieni qua. Vieni qua, vieni qua. Carlo è con noi da tantissimi anni, è uno dei primissimi testimoni di Sport Senza Frontiere, insieme abbiamo fatto tante cose e continua a non farci mancare il suo appoggio. Vinto. Ah, finalmente qualcuno che vince. Vinto, 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 vinto. Bravo, bravo. Da quello che vedo, da quello che capisco di Pato, cioè Zero, sta andando molto bene. Matteo, come sta andando? Benissimo, divertentissimo e sono contentissimo. Staticamente perché mi farei una pennichella per una partita all'albico. molto stanco, siamo ormai arrivati a tre ore di gioco, però finalmente abbiamo vinto una partita. Una, una. Ma ma Carlo, non va? Che dici? Il mio staff, ovvero la squadra verde, pare, 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 hanno vinto. Se non è così... Non si dice, non si dice. Pare. Sì, ragazzi! Sì, ragazzi! Sì, ragazzi!